Il personal branding non è solo sui social media, no? Ma è nella vita di tutti i giorni, nella realtà di tutti i giorni, il personal branding. Non è quello che uno fa sui social media, il personal branding e basta, ragazzi. Perché tu puoi raccontarla a tutti, ma non puoi raccontarla a te stesso. E con questo concetto vorrei scavare un po' più profondo dentro di voi, no? E dirvi, cosa ci raccontiamo noi di noi? Perché noi pensiamo sempre a cosa raccontare di noi, agli altri, di cosa fare sui social media per influenzare gli altri, per avere più like dagli altri, per essere una figura più di rilievo e tutto quanto. Però la realtà è, ragazzi, che quello è un amplificatore, no? Il mondo esterno, e metto inclusi i social media, sono uno specchio del mondo interno. Quello che uno incontra nella vita fuori, quello che uno incontra sul serio, no? Quando è nel mondo, i risultati, le relazioni, i feedback, i soldi, la libertà, l'impatto, no? Quello che è esterno è solamente uno specchio di quello che è il mondo interno. Ma è proprio uno specchio, eh? Quindi tutte le volte che succede qualcosa nel mondo esterno, tutte le volte che io dico, ok, voglio fare un personal branding più impattante, mi chiedo sempre, io mi sento una persona che? Io dentro. E troppe volte, secondo me, ci focalizziamo sull'esterno, su quello che vogliamo dire agli altri, su quello che vorremmo che gli altri dicano a noi, no? Su quello che è proprio il mondo esterno, di fondo. Quando in realtà, quando noi andiamo a dormire, ragazzi, dentro di noi, io vi posso garantire che se tu sei una persona di quelle che veramente ha un'intenzionalità di crescita, e sei, che vai a dormire con una certa soddisfazione, ragazzi, il mondo esterno non importa più niente, ed è il motivo per cui a me non importa chi mi critica, chi mi applaude, se mi fanno i complimenti, se mi fanno le critiche, perché io so chi sono. Sono sei anni che provo a me stesso, tutti i giorni, ragazzi, chi sono. Se io prendessi chiunque di voi e vi chiedessi, chi sei tu? Cosa vuol dire chi sei? La parola chi sei, la domanda chi sei, ragazzi, porta dentro di sé un valore veramente inestimabile. Chi sei tu? Perché tantissime persone nel mondo, ragazzi, questo chi sei tu, chi sono io, non è scelto da loro, perché se ci pensiamo non ci siamo mai messi lì a dire chi sono io, chi voglio essere io. Qual è una cosa che può venire chiunque a dirmi ah tu sei questo e tu dici no, 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 non sono quello. Ah tu hai fatto quello, no, no, io non l'ho fatto quello. Quella è sicurezza in te, no? Ragazzi, perché noi siamo su questo maledetto pianeta? Mi raccontavano senza farmi nomi. Questa persona che è 30 anni, ingegnere, super ben pagato, con la ragazza a Dubai, sullo yacht, vanno a fare un giro e tutto quanto, si tuffa dallo yacht, calcola male le misure e cade battendo la schiena su quello che è il bordo sotto dello yacht. E lo mette a due piani, avete in mente no? Salti al posto che andare nel mare, non calcola bene le misure, cadi sullo yacht di schiena, pum, paralizzato. Quando succedono questi avvenimenti uno davvero si ferma e si dice ma io posso continuare a vivere la mia vita in funzione degli altri? Ma io posso continuare a fare la mia vita senza veramente fare quello che voglio? Senza veramente avere un'intenzionalità di vita? Senza veramente, perché di fondo uno non sa quanto dura. Confrontarsi con la morte, ragazzi, costruisce un personal brand veramente forte. Perché quando tu ti confronti con la possibilità che tu non sai quanto vivi, ragazzi io non è che voglio dirvi morirete domani. Però io so che questo potrebbe succedere, perché ci fanno storie nel mondo, solo che noi purtroppo pensiamo che la realtà sia quella che noi vediamo intorno a noi, quindi diciamo, beh ma nei miei amici nessuno è morto, nessuno si è spaccato la schiena in uno yacht a Dubai, nessuno, nessuno. Quindi per me questa cosa non è assolutamente reale, ma in realtà, ragazzi, statisticamente nel mondo, se uno va a vedere, con un sacco di probabilità che qualcuno di noi abbia dei problemi. Magari sono io. Quindi confrontarmi con questo mi fa veramente rispondere alla domanda, ma cosa faccio io su questo pianeta? Cioè, qual è il mio scopo, qual è il mio obiettivo? E perché questo è estremamente importante collegarlo con un personal brand? Ma non un personal brand su social media, eh, un personal brand nella vita. Le persone peggiori, ragazzi, sono quelle che sui social media sono in un modo e nella vita reale sono in un altro. Ma non sto dicendo che devono essere come nei social media, perché chi mi conosce dal vivo sa che io sono in realtà molto più silenzioso, tranquillo, mi faccio gli affari miei, o meglio, questa è una parte di me. E su social media esce molto la parte, sai, estroversa, infatti tantissimi mi scrivono, come fai ad essere così estroverso? Io sono la persona più introversa del mondo. Sto dicendo alle persone che tu vedi i social media in un modo e poi dal vivo dici proprio, no, tu sei proprio finto. Perché? Perché uno non sa chi è. Dal momento in cui voi, ragazzi, iniziate ad avere questi pensieri, a prendere le mappe dell'iPhone, o del telefono, quello che sia, prendete le mappe e iniziate a fare così. E dite, wow, non sono nessuno. E poi dici, chissà cosa c'è, come stanno vivendo quelli in Ontario oggi. Chissà se c'è una persona in Ontario in questo momento che aveva tutta una strada spianata di vita e gli è successo qualcosa che l'ha bloccato letteralmente. Chissà se questa persona aveva una vita straordinaria e ieri notte, quindi diciamo 12 ore fa, perché? Magari 6 ore fa, perché loro sono indietro di 6-8 ore, una persona ubriaca alle 3 di notte non gli è andata addosso. Probabilmente ieri notte a qualcuno è successo, in un 7 miliardi di persone, 8 quanti siamo. Sicuramente, ragazzi, statisticamente 8 miliardi di persone, uno ieri sera c'è rimasto. Quindi, quando uno fa un ragionamento di questo genere, sapete cosa fa? Rimuove l'ego, rimuove la paura del giudizio delle persone intorno a sé, rimuove la paura di sbagliare, rimuove, rimuove, perché dici, ma io ma che problemi mi sto facendo? Ragazzi, sapete qualcuno di voi ha veramente paura del giudizio, no, che c'entra col personal branding, ma voi perché non provate a pensare questa cosa qui? Perché voi tra un mese, due mesi, domani, tra una settimana, sei mesi, non decidete di andare a cambiare totalmente vita. Se uno riflette, no, si tira fuori dalla mappetta e inizia a smettere di sentirsi così importante, che ogni cosa è così grave, che ogni fallimento è così cruciale, oddio, se sbaglio, ma se puoi parlare al mio amico e mi dice che non va bene, ma se puoi faccio que... Quando uno rimuove queste cose qui, ed è una cosa che di solito succede quando uno guadagna più soldi, perché ha la libertà di scelta, perché se ne è fregato già del giudizio altrui prima, cioè io ragazzi, la mia vita oggi è così, cioè io dico proprio che cosa è che voglio fare? E non è che dice allora no, non voglio fare fatica perché non mi piace, no, 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 dice anche voglio fare fatica perché c'è un'intenzionalità di crescita. Quindi dal momento in cui una persona dice fammi prendere la mia vita e farla come un foglio bianco, immaginate che la vostra vita oggi sia questa e dobbiamo insieme scriverci quello che noi vogliamo. Cosa vogliamo?